In un'intervista a Repubblica ha detto per me l'esperienza dei 5 Stelle al Capolinea dubito che Conte, che si definisce qui distante da destra e sinistra un'altra cosa che viene imputata dai possibili alleati, dal PD accetti di guidare il movimento non mi stupirei se alla fine rinunciasse ma lei questo l'ha messo in conto non sottovaluti la questione giudiziaria noi, Italia Viva, avremo un processo sul finanziamento illecito solo perché un magistrato dice che la fondazione che organizzava la Leopolda era in realtà un partito si immagina cosa accadrà quando gli inquirenti entreranno nel rapporto tra la Casa Legge e il movimento Russo il movimento Russo, i gruppi parlamentari non mi stupirei se Conte provasse a fare qualcosa da solo credo gli convenga Intanto mi auguro che Conte non ascolti nessun modo i consigli di Renzi perché diciamo se abbiamo dei dubbi No, no, però l'intreccio, cioè che ci sia una parte di opacità anche nella gestione risorse Ma questo sinceramente tra l'altro mi sembra talmente chiaro e trasparente l'invito di Crimi, almeno da questo punto di vista condivisibile di creare un fondo ad hoc per sostenere tutte le attività che il movimento guidato da Giuseppe Conte potrà portare avanti Poi, francamente, ecco ripeto, Renzi è stato veramente il sabotatore di tutta questa alleanza del governo precedente Accettare consigli da Renzi oggi sembrerebbe veramente come accettare consigli da uno che già sappiamo come ha portato avanti il suo progetto politico Se lui ha dei dubbi sulla riuscita del Movimento 5 Stelle non abbiamo più dubbi sul fallimento del progetto Italia Viva E su un leader, diciamo, possibili altre leadership che non siano Conte nel Movimento anche perché si dovrà eleggere il capo dello Stato come si governano gruppi parlamentari se non c'è una leadership politica? Io su quello sono molto preoccupato perché il nostro gruppo parlamentare che continua a essere il primo gruppo parlamentare è un gruppo però in grande fibrillazione ed è errato, secondo me, da parte del reggente attuale e dei capigruppo sottovalutare questa tensione che c'è all'interno del gruppo parlamentare Io spero veramente che Conte riesca a tenere tutti uniti ma non escludo perché sento, ascolto adesso stando in Parlamento non avendo carichi di governo i miei colleghi e c'è grande preoccupazione perché nessuno sa ancora a quale Movimento 5 Stelle sta aderendo o vuole aderire e quindi ovviamente se dovesse esserci un'ulteriore spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle perderebbe anche forza il ruolo di Giuseppe Conte perché oggi lui potrebbe dire di essere il leader della forza politica che ha il gruppo parlamentare più ampio se così non fosse questo depotenzierebbe molto anche lui Quindi lei ancora vede il rischio di scissione nei gruppi parlamentari? Assolutamente, sì almeno alla Camera del Senato meno Contezza ma sicuramente al Senato questo rischio c'è Le chiederei ancora tantissime cose perché tanto c'è da dire in questa fase anche sul populismo però c'è un'ultima domanda che voglio farle ancora torno necessariamente al tema Grillo che è quello che ha il gruppo di Giuseppe Conte